Mè signore, mè? Ecco Guarda, questa è la base che deve collegare alla presa e questo è il portatile Sì, scusa, è il filo? Questo è il cordless Pronto, vedi? Anche se da filo rispondono dall'altra parte E questo, con questo può telefonare fino a 100 metri Ah Allora posso telefonare solo a quel del palazzo di fronte? Non c'è niente Con il filo, senza il filo Io tengo una nipota a Mantova Mi chiamano e ho capito il telefono che doveva andare a portare a me Ma c'è manca un filo, signore Con il braccio, con il filo, tutto andato Signore, mi piace, non lo voglio, io sono il tradizionalista Ho un filo o no? Scusate, faccio stare qui Ecco, un filo Non c'è niente Non c'è niente E io ho capito, non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente